Continuiamo insieme all'Alsia a parlare dei prodotti tipici lucani, oggi è il giorno del canestrato di Moliterno, vediamo. Tra i prodotti derivati del latte, sicuramente uno dei più conosciuti nella nostra regione è il canestrato di Moliterno. Antonio Imperatrice, perché è così famoso questo formaggio? Innanzitutto perché è l'unica indicazione geografica protetta nell'ambito del panorama nazionale, quindi italiano. Poi perché le produzioni derivano dalla trasformazione del latte prodotto in ben 60 comuni della regione Basilicata, 24 nella provincia di Matera e 46 nella provincia di Potenza. Io amo sempre definirlo il canestrato dei due mari, perché la zona di produzione va da Montescaglioso fino a Rivello. E la tipicità è che la stagionatura deve avvenire solo nei tipici fondaci del comune di Moliterno. Ma dal punto di vista del consumo del prodotto, qual è la particolarità? Come può essere consumato? Il canestrato di Moliterno nelle diverse manifestazioni promosse dall'Alsia ha avuto anche dei riconoscimenti da parte di cuochi di fama nazionale. Ovviamente si può andare dagli antipasti ai primi, ai secondi e perfino a dei dessert che vengono preparati alla base a questo formaggio. Il più classico è il canestrato accompagnato dai nostri mieli lucani. Un'attenzione particolare va ai consumatori che per poterlo consumare, per essere sicuri che sia canestrato vero di Moliterno, un marchio certificato dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione, è la posizione, come si vede, sulla forma del tipico marchio a fuoco che rappresenta appunto il castello della nota cittadina in provincia di Potenza, Moliterno. E anche per oggi è tutto, vi restituiamo la linea. E noi passiamo a un altro...